Mi chiamo Francesco Desario e sono di Bologna. Sono venuto a questo corso perché lavorando in una multinazionale, occupandomi di organizzazione, volevo migliorare l'aspetto comunicativo di cui mio lavoro ha necessità, ha bisogno e cercare di avere degli strumenti che mi consentano di padroneggiarlo sempre di più. Sicuramente è emozionale, il primo perché si fanno un sacco di lavoro, di allenamento e quindi questo fatto porta comunque a mettersi in gioco molto di più che rimanere a sedere su una sedia, ma invece andare proprio davanti a tutti quanti ti porta a provare delle emozioni e quindi dal mio punto di vista l'apprendimento è molto più immediato e molto più veloce. Didattica, mi rendo conto che prima di tutto e quindi prima di padroneggiare in un secondo momento questi strumenti sia fondamentale acquisire la parte teorica e quindi di conseguenza capisco che il percorso che ho seguito fino adesso fa parte di uno schema più grande, molto molto chiaro. Poi la terza parola chiave per me è la collaborazione, in quanto avendo sempre la possibilità di lavorare con tanto insegnanti diversi che hanno stili diversi, ma poi nello stesso tempo avere le persone del gruppo, che sono sempre quelle, permette di instaurare delle amicizie che consentono di testare, provare questi strumenti anche tra una lezione e l'altra, quindi non soltanto nei due giorni al mese che stiamo qui, ma ci sentiamo per fare un po' di allenamento assieme. Non sono in azienda, assolutamente, e in effetti uno dei motivi che mi ha mosso per venire al corso è proprio quello di andare a prendere queste soft skills perché le ritengo la competenza del futuro. Per me 80 oggi già dovrebbero essere le soft skills e 20 le competenze tecniche e invece probabilmente il contrario, cioè oggi è 80 competenze tecniche e 20 soft skills. Sicuramente è lo sviluppo dei manager del futuro. Se sei in una fase della tua carriera in cui ti rendi conto che non riesci a fare in modo che non solo a ottenere tu degli obiettivi, ma a fare in modo da, diciamo, aiutare le persone a ottenere anche i propri obiettivi perché all'interno di un'azienda è fondamentale questo, soprattutto in determinati ruoli, dovresti cominciare a pensare che forse non hai tutte le competenze per farlo perché non te le hanno insegnate e di conseguenza non darti tanto delle colpe ma più che altro cominciare a documentarti quali sono le competenze necessarie che ti consentono di fare questo e questa scuola sicuramente è una risorsa da questo punto di vista. Per cui non lasciarti, non darti per vinto, non demoralizzarti, ma invece chiediti che cosa posso fare per migliorare la mia situazione.